Allora Delaide, questa fatta di pesce spada viene 8 euro, va bene per te? Va bene, ma come posso cucinare? E come lo vuoi fare con il pomodorino? Eh, eh, non so, ti piace l'aglio? Sfrina un po' il raglio, lo vuoi fare dorato, ci metti il pomodorino e lo vuoi fare a metà cottura perché quello si cuoce subito. Poi ti piace l'oliva nera? Sfrina pure l'oliva nera, a metà cottura c'è il pesce spada, e tu fai, eh, bravo con il pomodorino. Oppure tu puoi fare rostite, se ti piace. No, e fai con il pomodorino, che fai e dici, ma, eh, ti fai pure un po' di scarpetta. Sì, sì, eh, metti pure un po' di prezzemolo che ti ho messo, e, eh, sembra a fiamma basso e ti fai coscire tanto bello, va bene? Ciao, grazie. Ah, sì, che ti piace? Non ti piace il stock? Sì. Continuiamo con le spete e diamo anche 5 euro di stock alla zia con un po' di prezzemolo. Ancia, galù banal! Ancia, galù banal! Ancia, galù banal! Ciao, grazie. Grazie a tutti